Tutti i nuovi che ci sono, se ci sono delle persone con delle competenze specifiche, c'era Radio, radio e radio stampata La radio, c'era un fotografo che non vedo più dov'è Io, lui Eh, che non è la tua, quindi queste sono tutte competenze che sono assolutamente necessarie Sono skill, per cui il gruppo comunicazione le mette